Andrea prima di nascere era normale per colpa di un dottore distratto e di uno strumento che lo ha aiutato a venire al mondo si è ritrovato a convivere con una disabilità che ogni giorno lo frena nelle attività più semplici come allacciarsi una scarpa o bere un cappuccino senza versarlo si legge questo nella copertina del libro scritto da Laura Corsini Andrea è il personaggio di non ho imparato a nuotare nato dal racconto vero di Giuseppe Frassinelli che ogni giorno lotta con le difficoltà del suo handicap una sfida con me stesso con la mia disabilità con tutto il mondo attorno alla disabilità ma soprattutto trascrivere ciò che penso e le mie paure e quant'altro ecco il titolo è evocativo non sono riuscito a imparare a nuotare perché non ho imparato a nuotare perché perché comunque a parte all'otto pratico che non so nuotare nella vita è importante imparare tutti i giorni qualcosa di nuovo per poter vincere determinate sfide particolarmente legate alla disabilità Allora un doveroso ringraziamento anche a chi ti ha aiutato nella stesura di questo libro Indubbiamente le persone sarebbero tante da ringraziare ma principalmente l'amministrazione comunale di Cazzaceto la prologo in tutti i suoi operatori che sono stati eccellenti e bravi e la mia casa editrice capitanata da Giovanni Fabiano Che cosa ti ha dato questo libro? Che cosa ti porti dentro dopo questa esperienza? Mi porto dentro ciò che ho sempre sognato esternarmi di più di quello che fino ad oggi non ho mai fatto esternare problemi, felicità, emozioni, pianti, dolori, un po' di tutto Finalmente Giuseppe ha dato voce alla sua storia e alla sua eroica lotta quotidiana sorprendente e silenziosa ma che ora grazie al libro tutti possono conoscere Grazie mille Grazie mille